Ciao a tutti e benvenuti nella nuova serie Marvel Wow, non Now, ma Wow. In questa serie parlerò, diciamo, delle cose Marvel, avvenimenti nuovi, recensioni giornalini nuovi e tanto altro. Sarà in compagnia di alcune persone, come Enrico e tante altre. E niente, poi vedrete i prossimi episodi e ci vediamo alla prossima.